Bene, allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo incontro del percorso di storia locale che ci avvicina alla nascita della Valtellina Moderna e che è stato organizzato in onore di Sandro Massera. E ho il piacere di dirvi che è presente in sala la figlia, Silvia Massera, con il figlio, quindi con il nipote. E credo di poter interpretare il pensiero della professoressa Baldini, che oggi non è presente, nel ringraziare per questa presenza. Il mio compito è quello di presentare Cristina Pedrana. Lo faccio con molto piacere perché mi lega a Cristina una lunga consuetudine di collaborazioni nell'ambito della scuola e anche, direi, un'amicizia abbastanza solida. Cristina è nativa di Bormio, tant'è vero che oggi, in questo terzo incontro, approfondirà aspetti della storia di Bormio che ha dei tratti specifici che la differenziano, quella realtà, dal resto della valle e anche della Varchiavenna. È laureata in lettere, ha insegnato per moltissimi anni al liceo scientifico, al liceo Donegani. Ora il liceo Donegani fa parte del polo liceale Città di Sondrio, però devo ricordarlo con questo nome perché nell'ambito proprio del liceo Donegani Cristina Pedrana ha ideato il progetto Donegani, ancora familiarmente chiamato così, e nell'ambito di quel progetto, che è legato all'acquisizione di una serie di tavole, disegni originali, è una cosa di cui abbiamo parlato spesso anche con la città di Sondrio, ha organizzato un centro di documentazione che è aperto anche al pubblico e che nel tempo ha svolto diverse attività di ricerca. Il primo impegno importante di Cristina Pedrana in questo ambito è stato la realizzazione di un convegno e di una mostra intitolata Carlo Donegani, una via da seguire, dedicata naturalmente alle strade storiche realizzate nell'Ottocento durante il periodo asburgico. Questa iniziativa ha poi avuto seguito con altre attività, tra le quali mi limito a citare due collaborazioni importantissime perché hanno visto gli studenti coinvolti in seguito alla legge del 2016 con attività di alternanza scuola-lavoro e di PCTO, proposte che per i licei sono sempre viste con una certa diffidenza perché sembra che propongano delle attività differenti da quelle a cui il percorso liceale avvia. In realtà in questi ambiti si è lavorato sulle strade e in particolare le due attività di ricerca alle quali ha collaborato Cristina come esperta, grande esperta delle vie antiche e delle vie storiche, si sono incentrate sulla strada dello Spluga e sulla strada dello Stelvio. L'ultima ricerca è proprio stata quella sulla strada dello Stelvio. Un grande pregio di Cristina Pedrana è la capacità di condividere perché a lei dobbiamo la grande mole di documenti frutto della sua ricerca d'archivio molto capillare condotta non solamente a Sondrio ma anche a Milano ad esempio e questa ricerca d'archivio l'ha permesso di trovare moltissime informazioni che ha condiviso con gli studenti e con la scuola. Credo sia proprio una generosità che la caratterizza. In qualità di grande esperto delle vie storiche Cristina Pedrana ha scritto numerosi articoli pubblicati su varie riviste ha partecipato come relatore a convegni e seminari molti di questi si sono tenuti nei principali centri della provincia di Sondrio però io ricordo con particolare piacere un convegno a Splugen a cui ha partecipato come relatore e anche diversi convegni al Politecnico di Milano sedi di Milano e sedi di Lecco. L'ultimo convegno in cui era stato presentato anche il progetto di ricerca sulla strada dello Stelvio si è svolto nel maggio scorso e ha avuto un successo direi importante. In queste attività di ricerca sono state realizzate mostre e cataloghi e è stato possibile anche esporre i risultati di questo lavoro presso il Politecnico di Milano. Non solo strade devo dire Cristina Pedrana ha questa passione per la ricerca storica e quindi si è dedicata anche ad altre tematiche e si è occupata anche di curare la pubblicazione di alcune opere inedite e cito lo spione chinese di Ignazio Bardea ha indagato sulle memorie storiche ha curato la pubblicazione delle memorie storiche di Pietro Pedranzini sulla strada dello Stelvio con riferimento alla terza guerra d'indipendenza si è occupata anche di un altro Pedranzini missionario da Bormio in Cina è forse il suo ultimo lavoro perché mi pare risalga al 21. ma per avvicinarci al tema di questa sera tra le sue ricerche c'è anche quella su Galeano Lecchi e Galeano Lecchi, conte diavolo personaggio spregiudicato, enigmatico con dei lati anche oscuri probabilmente su cui farà luce ci permetterà come abbiamo detto di scoprire qualcosa in più sulla storia di Bormio però visto che ho fatto prima riferimento alla capacità di Cristina di fare ricerca documentaria e di condividere e visto che è presente Silvia Massera mi permetto di ricordare un lavoro che risale a 20 anni fa fatto con una classe del liceo scientifico in cui ricordo di aver avuto tra le mani dei documenti trascritti su cui era riportato il nome di Sandro Massera ricordo questo fascicolo perché la classe coinvolta era la mia classe e ricordo questo fascicolo con quell'indicazione e quindi Cristina Pedrana che ha conosciuto Sandro Massera forse ha anche avuto la possibilità di condividere con lui quella passione per la ricerca storica e anche l'importanza proprio della diffusione dei documenti e della condivisione anche di questi strumenti di lavoro che sono fondamentali non dico altro se non che in alcuni articoli lei ha già parlato di Galeano Lecchi e i titoli sono un po' inquietanti li leggo solamente per poi lasciare la parola mi hanno molto colpito e li leggo perché non vorrei perdere qualche fiamma Incendi, diavoli, fiamme rivoluzionarie titolo di un saggio che compare in Fuochi, fucine, incendi e roghi portatori di memoria nell'Alta Valle Bormio 2015 questo è già uno studio che ha a che fare con Galeano Lecchi però a questo punto cedo la parola a Cristina Pedrana Grazie Grazie per questa presentazione così funziona Grazie Grazie davvero Lo studio a cui alludeva Maria Carla dove io ho lavorato su documenti che avevo io e su documenti del professor Sandro Massera si riferiva a un argomento di cui poi magari si parlerà più avanti quando Bormio già sotto la Cisalpina nel 1814 invece vorrà penserà di ritornare come appartenente ai Grigioni e c'era stata una missione a cui tra l'altro aveva preso parte anche un mio diciamo più che trisnonno era un quadrisnonno che si chiamava Pietro Motterlini che faceva parte di una commissione che proprio pensava di invece di passare sotto l'Austria col congresso di Vienna pensava prima a una riunione con i Grigioni quindi questo comunque veramente ho avuto modo di lavorare di condividere col professor Massera questi documenti beh anch'io vi ringrazio quindi un pensiero riconoscente va a lui e relativamente a Galeano Lecchi anche al diciamo coautore che era padre Ireneo Simonetti che aveva fatto delle ricerche proprio sui documenti relativi al conte Lecchi e a questo periodo della storia di Bormio e ringrazio anche tutti voi per la presenza naturalmente io presenterò un po' la situazione di Bormio quale era e le differenze principali con la Valtellina in rapporto con i Grigioni soprattutto e poi una breve biografia del conte Lecchi con le principali vicende della sua vita quelle più note e quelle segnalerò quelle che poi in un certo senso sono state prese a pretesto quando poi è stato ucciso nel 23 luglio del 1797 sono state prese a pretesto per indicare quanto malvagio quanto oltre che enigmatico e misterioso fosse stato questo personaggio e poi parlerò brevemente del circolo giacobino che si era istituito a Bormio dei rapporti con la città di Brescia che sono molto importanti e della volontà da parte di Lecchi e del suo circolo di aderire a quella repubblica che si era ribellata al dominio Veneto quindi si era tolta dal dominio Veneto e voleva affratellarsi con Bormio è stato un periodo veramente di grandi confusioni di grandi difficoltà di grandi anni veramente tempestosi per la Valtellina e anche per il contado di Bormio poi accennerò ai contrasti violenti anche con i conservatori di Bormio che non accettavano le idee rivoluzionarie arrivate così in fretta e alcune azioni violente che vennero fatte a Bormio dal circolo giacobino fino poi ad arrivare alla sua eliminazione quello che giustamente è stato definito un eccidio un delitto ingiustificato come Iras che era rappresentante francese a Coira dirà che era stato veramente un grosso errore perché Lecchi e i suoi compagni che morirono dovevano essere processati mentre invece furono brutalmente fucilati senza ombra di nessun processo e poi il dopo per Bormio che cosa è successo ha dovuto aderire in tutta fretta alla Cisalpina e quindi anche il sacrificio di Lecchi è stato alla fine un omicidio inutile la situazione di Bormio era davvero diversa dal resto della valle perché fino alla fine del 1700 si era mantenuta autonoma da un lato un po' per la verità autoreferente con delle chiusure e dei rifiuti nei confronti del nuovo e del forestiero e dall'altro proprio grazie alla sua felicissima posizione geografica era invece aperta ad una fitta rete di relazioni soprattutto di relazioni commerciali il Bormio era rimasta sempre autonoma fin dal 1200 abbiamo un documento del 1201 quando Bormio era sotto Como a cui doveva dei tributi doveva ovviamente aveva degli obblighi però era riuscita soprattutto dal punto di vista di autogoverno e di gestione degli scambi commerciali a rimanere autonoma fin da allora questa sua autogestione sia a livello politico che a livello commerciale si è mantenuta sempre anche sotto il dominio dei visconti degli sforza e poi anche sotto il dominio dei grigioni Bormio quella che è stata definita da uno storico che si chiamava Roberto Celli una democrazia longeva infatti longeva lo è stato perché per tanti secoli si è mantenuta la sua democrazia diciamo poggiava su due pilastri che sono uno gli statuti bormini che erano più di 400 articoli di legge che regolavano tutta la vita del paese ma fin nei minimi particolari la popolazione di Bormio era composta per lo più allora da piccoli proprietari e tutti i più importanti servizi erano gestiti dal comune e questo era veramente una situazione particolare e diversa da quella di molte altre zone quindi il commercio del vino verso l'est verso nord il commercio del sale invece verso sud la gestione delle taverne dei boschi delle acque la gestione delle miniere tutti gli approvvigionamenti erano gestiti dal comune seguendo delle regole molto precise e questo perché per evitare il formarsi di gruppi potenti di famiglie o comunque di persone o di consorterie per questo è rimasta sempre abbastanza paritetica anche con gli abitanti delle valli vicine il contado di Bormio comprendeva il paese di Bormio poi la valle di sotto fino a quello che era il ponte del diavolo dove c'è stata la frana del coppetto insomma fino a prima di le prese poi comprendeva la valle di dentro comprendeva Livigno e comprendeva la Val Furva quindi era un comprensorio grosso e abbastanza isolato i rapporti con la Valtellina dalla quale era divisa dalla stretta di Serravalle erano regolati da uno degli statuti il numero famoso numero 319 il quale recitava era intitolato De non abendo comunionem cum valle Tellina e quindi non bisognava avere il fine di questo era soprattutto legato ai grigioni nel senso che se i grigioni dovevano punire o richiedere dazzi o qualcosa del genere al resto della Valtellina Bormio se ne sarebbe stata al di fuori Bormio non doveva essere coinvolta da qui però c'erano anche dei ricordi molto spiacevoli perché tra le poche volte in cui Bormio aveva aderito a delle proposte della Valtellina per esempio l'adesione al Sacro Macello poi era stata veramente e pesantemente punita e aveva avuto delle conseguenze davvero nefaste quindi invece migliori e più frequenti erano i rapporti col nord sia per scambi commerciali e sia anche per i frequenti matrimoni che legavano moltissime donne della Val Venosta della Val Monastero dell'Austria avevano sposato Bormini oppure viceversa Bormine avevano sposato uomini di via e quindi era un misto ma molto più mescolato col nord che non con il resto della valle poi a un certo punto nel corso del XVIII secolo però anche in Bormio cominciarono a verificarsi una sorta di si verificò una sorta di progressivo irrigidimento in senso conservatore e alcune famiglie cominciarono a prendere un po' ad avere forti influenze anche sulla gestione della cosa pubblica una sorta di chiusura verso le famiglie estrane al gruppo dei patrizi Bormini era citata in uno statuto lo statuto numero 37 che proibiva a tutti gli appartenenti anche a famiglie molto nobili molto ricche ma di altre zone di entrare a far parte del consiglio o comunque dei dominatori dei dominanti del paese per cui c'erano famiglie cito per esempio Idea e Ibardea che erano originari di Lanzada che però erano a Bormio da tanti anni Bardea stesso lo storico ha avuto molta difficoltà la famiglia sua ha avuto molta difficoltà nel farsi accettare Idea erano ancora impredicato non erano ancora riusciti a far parte dei maggiorenti di Bormio Contelechi non parliamone non riuscirà mai ed era invece uno dei suoi desideri più forti direi quasi un desiderio spasmodico perché voleva a tutti i costi entrare per avere voce in capitolo se in Valtellina e nei tre terzieri il rifiuto insomma diciamo volevano staccarsi dai grigioni perché i grigioni erano diventati veramente pesanti si ingerivano pesantemente negli affari c'erano corruzioni c'erano malversazioni e quindi in Valtellina le idee nuove che provenivano dalla Francia di libertà di egualità eccetera forse erano più ben accolte Bormio invece gli abitanti non vedevano almeno per la maggior parte di loro non vedevano motivi di dissenso tali e così forti da giustificare una rivolta insieme ai valtellinesi per liberarsi dal dominio dei grigioni e poi in più le idee nuove di libertà di uguaglianza eccetera provenivano quasi tutte da persone come vedremo appunto il conte Lecchi ma anche da alcuni giovani che erano di Bormio ma erano fuori dalle famiglie quindi erano in un certo senso ancora considerati forestieri e questo dava fastidio e che queste idee provenissero da persone chiamiamole così estere non dava fastidio e non venivano accettate in Bormio ovviamente non era tutta chiusura non era tutto arroccamento sulla tradizione antica c'erano anche persone come Ignazio Bardea teologo canonico che era amico era stato anche amico come vedremo del conte Lecchi e che era una persona di grande apertura aveva vissuto lungamente a Brescia e aveva raccolto più di 20.000 pagine di documenti trascrivendoli e quindi costituisce una delle basi fondamentali per la storia di Bormio infatti il professor Massera nel libro che ha dedicato diciamo al conte Lecchi la fine del dominio grigione a Bormio e l'ecidio di Cepina riporterà nel testo dopo una importantissima introduzione il manoscritto di Bardea che racconta tutta la vicenda del conte Lecchi che Bardea ha vissuto in prima persona perché oltre a conoscerlo molto bene gli anni erano quelli e lui era a Bormio poi le idee rivoluzionarie nuove circolavano un po' anche a Bormio sicuramente ci sarà stato chi aveva i libri di Rousseau di Voltaire degli enciclopedisti quindi queste idee anche magari legate alla conoscenza non lo so di qualche elemento dei circoli degli illuminati o della massoneria che erano molto diffusi all'epoca e però erano tutti libri proscritti e da da condannare sicuramente si trovavano nella biblioteca del conte Lecchi perché questo era poco ma sicuro Lecchi apparteneva era nato a Brescia una breve biografia era nato a Brescia e da una famiglia molto molto facoltosa che basava la fortuna economica su grandi proprietà terriere e poi sulla possibilità erano garantiti dagli appalti sui dazzi e poi avevano in più anche proventi dalle fucine e dalle ferriere soprattutto di lumezzane che nella zona di Brescia comunque erano molto diffuse già in famiglia aveva assorbito idee libertarie se pensiamo che un suo zio aveva nello studio di Calvisano nella pianura bresciana i ritratti di Washington e del generale Lafayette i due capi della rivolta americana della rivoluzione americana che avevano portato poi alla creazione degli Stati Uniti e nella lotta contro gli inglesi il padre di Galeano Lecchi aveva fatto dipingere nei saloni dei suoi palazzi avevano diverse case i soggetti come il genio umano che trionfa sull'oscurantismo la ragione la verità la fame la fama la storia che erano tutte tematiche molto care alla cultura illuministica e Galeano aveva studiato presso i padri Somaschi ed era aveva dimostrato subito un bel talento però anche un carattere ribelle irrequieto violento che era un po' un bastian contrario tanto che il padre lo chiamava invece che Galeano lo chiamava Galeotto proprio perché non si adeguava mai non ubbidiva mai insomma e per lunghi periodi visse a Venezia godendosela molto e a Venezia si era legato in modo particolare con un poeta che si chiamava Giorgio Baffo poeta vernacolare quindi che scriveva in veneziano i cui versi erano oltremodo erotici licenziosi direi al limite del pornografico che scandalizzavano tutti e che però tutti conoscevano ora cito questo particolare non tanto per far conoscere il poeta Baffo ma perché sarà uno dei motivi per i quali che daranno modo agli accusatori di Lecchi per far vedere quanto fosse scostumato e quanto fosse fuori da ogni canone questa la sua persona insomma si era sposato molto presto con una nipote una carissima persona figlia di una sua sorella aveva avuto un figlio che però purtroppo a cinque anni morì questo fatto l'ha segnato profondamente infatti da allora si era ritirato nel palazzo di Montirone e da lì si era circondato di personaggi veramente molto facinorosi ora sulla funzione nella società del tempo di questi personaggi che si chiamavano Buli nella zona del Veneto che corrispondono pienamente ai bravi del Manzoni descritti tanto bene nei promessi sposi ecco le famiglie più altolocate erano fiere di avere al loro servizio i più tremendi più cattivi più violenti quelli che meglio di tutti potevano difendere il loro casato il conte continuò ad avere un atteggiamento piuttosto protervo e vi leggo che cosa ha scritto un rappresentante della Repubblica Veneta dicendo che Galeano Lecchi era facile all'ira e alla vendetta di carattere vivo pertinace circondato da uomini sospetti e da tempo è l'autore designato diretto o indiretto di violenze e danni e in più dice si computa che presentemente abbia perlomeno 2000 persone al suo servizio pronti a compiere qualunque azione e ad ogni azione soprattutto di contrabbando quindi praticamente una personalità abbastanza proterva violenta così come sembrava ora questi comportamenti certamente non giovarono alla sua figura che veniva dipinta sempre con colori anche a Brescia con colori lo sarà anche a Bormio ma con colori anche ben più foschi di quanto non fosse in realtà ma l'evento che veramente gli sconvolse la vita fu l'uccisione di un giovane che si chiamava Gian Battista Febrari del quale fu accusato appunto un dipendente di casa Lecchi Galeano il padrone lo difese in tutti i modi ci fu un processo che durò un sacco di tempo un paio d'anni e alla fine venne condannato il dipendente però venne scarcerato quasi subito mentre Galeano Lecchi venne indicato come il mandante dell'omicidio tanto da essere condannato a vent'anni ai piombi di Venezia il che voleva dire andare lì e restarci per sempre tutta la famiglia si mise in moto per cercare con le vie diplomatiche e politiche per cercare di farlo uscire ma non riuscì invece riuscirono con lo stratagemma di fargli avere il carcere una sega con cui segò il soffitto del carcere e delle lenzuola con cui fece una specie di corda per calarsi nel canale è chiaro che c'era la complicità sia del medico del carcere e sia dei custodi del carcere e comunque a distanza di 30 anni perché 30 anni prima la fuga dei piombi del carcere dei piombi di Venezia era riuscita e la storia la sanno un po' tutti perché l'ha raccontata in lungo e in largo Giacomo Casanova a distanza di 30 anni la stessa cosa riuscì anche a Galeano Lecchi furono poi condannati il medico i custodi del carcere naturalmente e si disse che il motivo per cui era uscito dice erano i zecchini d'oro che erano stati ampiamente e largamente distribuiti comunque Lecchi fuggì immediatamente dal Veneto e passando per il Trentino dove c'era dominato dal Vescovo non sentendosi sicuro neanche in Trentino approdò in Valmonastero nel territorio dei Grigioni e poi da lì passò a Bormio perché questa scelta prima di tutto perché tutto sommato era una zona abbastanza vicina a Brescia dove comunque aveva i suoi interessi aveva i suoi soldi e poteva mantenere dei rapporti abbastanza stretti poi perché qualora la Venezia avesse chiesto la sua estradizione avere l'estradizione dai Grigioni era una cosa molto complicata perché dovevano sentire avere il parere positivo di tutte le municipalità per cui avrebbe fatto in tempo a scappare da qualche altra parte e poi anche perché c'era un medico che si chiamava Zirotti oculista che già in fuga anche lui perché era stato accusato di un omicidio che era già arrivato a Bormio e che era ospite della famiglia Alberti quindi la scelta della località montana e il perché è arrivato a Bormio risale a questi questi tre motivi Lecchi si comportò venne ospitato da Stanislao Alberti la famiglia Alberti è sicuramente stata nei secoli la famiglia più importante di Bormio dal Cinquecento dal Seicento soprattutto in avanti questo Stanislao Alberti che era uno dei reggenti però era un po' era stato definito piuttosto de genere e comunque l'ha ospitato in una delle sue case e Lecchi si è prontamente innamorato di una delle sue figlie che si chiamava Elisa e anche questo racconto perché poi ha influito sulla sua figura anche poi in seguito questa giovane donna però era sposata con quello che era stato definito da un best di Teglio era stato definito il rude metodico e noioso Rodolfo Salis il quale al momento era a distanza a Napoli quindi era lontano Lecchi si era messo diciamo a fare il cavalier servente e anche qui va detto che la questione del cavalier servente cioè colui che si accompagnava alle signore o alle giovani delle famiglie altolocate era quasi una istituzione nel Settecento se pensiamo al fenomeno del cicisbeo il cicisbeismo era colui che aveva accesso alle case e faceva compagnia anche alle signore basta pensare al giovin signore del Parini per ricordarne insomma la figura il marito prontamente grazie a Pettegolezzi a non finire fece scendere la moglie a Napoli e Lecchi non so bene in che maniera riuscì ad accompagnarla non da solo però l'accompagnò perché veramente sembrava innamorato di questa ragazza e sperava di riuscire a portarla via in realtà il re di Napoli emanò prontamente un decreto su istanza del Salis per mandarlo per escluderlo dal regno di Napoli con un decreto esecutivo allora voleva tornare verso la Francia invece si fermò a Genova e anche qui conobbe una giovane Marianna De Filippi che era la famiglia gli aveva dato in affitto una casa e anche qui anche su di lei si sprecarono malignità e dicerie però alla fine addirittura si disse che Lecchi aveva fatto ammazzare i genitori della ragazza per poterla portare via non credo fosse vero e comunque per tre mesi Lecchi fu costretto a vivere anziché in casa su un velliero ormeggiato nel golfo di Genova poi con uno stratagemma che lo stratagemma è che era riuscito a combinare un matrimonio per la sorella della giovane con un venosta di Tirano e non sono ben riuscita a identificare quale venosta però per questo motivo riuscì a riapprodare a Bormio con le due donne e visse per un certo numero di anni abbastanza tranquillo in una casa degli Alberti in questa casa si verificò un incendio di cui venne incolpato vennero incolpate le feste molto licenziose che lì si tenevano incolpate dalla gente in realtà era stata l'incuria della servitù e poi si diede molto da fare comunque cercando anche siccome era ricchissimo e anche molto generoso generoso magari per tornaconto personale però favoriva molto chi gli stava vicino ecco sempre con il chiodo fisso di riuscire a entrare tra i maggiorenti di Bormio ora in casa sua viveva oltre alla Marianna De Filippi aveva tre figlie avute da donne diverse che tra l'altro erano per spiegare come che razza di famiglia fosse era una famiglia veramente allargata queste tre ragazze da piccole erano state allevate dalla legittima moglie che se ne stava a Brescia quindi dalla moglie vera che lui non ha mai sconfessato e che ha sempre nominato come sua moglie la generosità di Lecchi si è estrinsecata in molti modi cito soltanto un progetto che era stato fatto che era quello di rifare risistemare tutta la strada di Fraele che dalle torri di Fraele lungo la valle di San Giacomo poi portava in Valmonastero che era l'accesso al nord più semplice perché l'altro che era quello dell'Umbrail saliva fino a 2600 metri ed era comunque sempre piuttosto faticoso poi invece in realtà il progetto che era del 1795 non ebbe luogo ecco si era legato mentre stava a Bormio a persone di poco conto se vogliamo che lui stesso giudicava di poco conto e però anche a tre o quattro forse anche qualcuno di più giovani dei quali si era detto che erano stati succubi del conte che il conte li dominava ma che invece erano persone colte tutte e tre sto parlando di Giambattista Silvestri Vincenzo Zuccola e Filippo Nesini tutti e tre laureati in legge tutti e tre laureati in legge a Innsbruck che era dove era una facoltà molto importante molto frequentata oltre a quella di Padova anche dai Bormini e tra l'altro in questa città Silvestri insieme anche a un Guicciardi che però non ho identificato chi fosse faceva parte del primo circolo giacobino che si era diffuso nella zona prontamente bloccato questo circolo giacobino che diffondeva le idee liberali le idee di libertà di uguaglianza eccetera questi giovani del circolo universitario di Innsbruck vennero arrestati e per un certo periodo di tempo tenuti in prigione quando tornarono a Bormio si ricompose questo circolo il Lecchi si aggiunse e quindi divenne veramente le idee circolavano e cominciarono a pensare soprattutto Lecchi e Vincenzo Zuccola ha il progetto di allontanare Bormio dai Grigioni e farne una repubblica autonoma che potesse affratellarsi con Brescia cos'era successo intanto a Brescia Brescia si trovava sotto il dominio di Venezia della Serenissima e brigavano circoli c'era un pullulare di circoli segreti dei quali facevano parte anche ben cinque nipoti di Galeano Lecchi la famiglia sua a parte lui che era dovuto fuggire era rimasta a Brescia ed era comunque una famiglia molto molto importante il cinque di questi nipoti si erano posti a capo di questo circolo e sostenevano che dovessero di doversi allontanare dal abbattere il potere veneto perché secondo loro si rivelava assolutamente refrattario ad ogni stanza di progresso e incarnava il privilegio sociale quindi vennero poi costituiti altri circoli insomma la storia è abbastanza complessa le vicende di Brescia sono abbastanza complesse comunque per concludere il 18 di marzo 60 giovani al grido di libertà o morte entrarono nel broletto di Brescia che era la sede del municipio e la sede del governo veneto e misero la bandiera cisalpina sulla parte più alta del broletto quindi non ci fu spargimento di sangue perché il governatore veneto che si chiamava Battaggia probabilmente ritenne che non era il caso di fomentare guai rivolte veramente rivoluzioni quindi questi riuscirono a fare questo colpo di stato chiamiamolo questa rivoluzione senza spargere sangue però non ci furono dunque violenze sulle persone ma sulle cose sì perché vennero abbattuti gli stemmi vennero distrutte le lapidi le sculture e tutto quello che ricordava il precedente dominio veneziano in una notte sola si dice che venne presentato il progetto del governo provvisorio di Brescia è chiaro che in una notte sola non era possibile il progetto del governo provvisorio di Brescia perché fatta la rivolta bisognava costruire poi il governo che fosse qualcosa che stesse in piedi e che durasse nel tempo quindi questo governo provvisorio era già pronto già si erano fatti i nomi di chi doveva prendere parte e già si erano decisi i vari comitati e tutta l'organizzazione in pratica quindi l'organizzazione della libertà conquistata era già stata fatta prima aggiungo che la Repubblica Bresciana durerà otto mesi anche perché c'era una stranissima situazione perché dal trattato di Leoben nella divisione tra il Veneto e la Lombardia il confine passava sul fiume Olio quindi Brescia era al di là dell'Olio non era al di qua non faceva parte secondo della Lombardia e quindi riuscì a mantenersi indipendente per ben otto mesi anche perché Napoleone provava una certa simpatia per quelle persone che l'avevano fondata il nostro Galeano Lechi appena saputo che la rivolta era riuscita che Brescia si era liberata dal dominio Veneto immediatamente si recò a Brescia e debbe colloqui segreti un po' con tutti e gli fu assegnato un compito importante perché era quello di gestire di organizzare la società patriottica di pubblica istruzione e qui ottenne che il teatro per esempio tra altre cose che il teatro pubblico di Brescia che era riservato ai signori insomma ai nobili venisse aperto a tutti e che vi fosse collocata una sorta di scuola dove tutti quanti potessero partecipare ed esternare le loro richieste in modo che i governanti potessero sapere bene come muoversi e che cosa puoi proporre uno dei mezzi che sempre ritenne fondamentali e che anche quando era Bormio usò largamente erano gli spettacoli teatrali perché era profondamente convinto chiaramente non c'era la televisione non c'era nulla per cui attraverso gli spettacoli teatrali invece si poteva si potevano far passare dei messaggi importanti e che potessero essere convincenti non solo per chi era colto ma anche per chi non aveva una grande cultura di questi ne aveva fatti diretti anche lui stesso diversi a Bormio prima e di questi si era occupato anche a Brescia in questo momento aveva anche organizzato dei rapporti tra Brescia e la Valtellina pensando che la Valtellina potesse davvero il suo progetto era quello di far affratellare come ho detto prima la Repubblica la Valtellina il contado di Bormio con la Repubblica Bresciana e quindi aveva mandato in avanscoperta in Valtellina tre personaggi uno era Filos un altro era Francesco Salvi che tra l'altro era autore commediografo autore di grandi commedie e un altro era un Lampert che era un farmacista scienziato questi ultimi due erano stati allontanati venivano dal Meridione ed erano stati allontanati proprio perché sostenevano le idee repubblicane di uguaglianza libertà eccetera poi anche da parte della Valtellina due persone che erano un Pelosi e un Piazzi erano andati dal terziere di mezzo erano andati a Brescia per cercare di capire per rendersi conto davvero di come fosse organizzata la situazione di come avessero fatto a fare questo colpo questa rivoluzione tra l'altro senza davvero senza vittime però nel frattempo il consiglio di Valle Valtellina si era già espresso per l'unione con Milano e con la Cisalpina Brescia risultava troppo lontana a prescindere dalla figura di Lecchi che a Bormio non accettavano però risultava comunque troppo lontana e troppo difficili sarebbero stati sarebbe stato mantenere i rapporti anche se si era già pensato per esempio di sistemare la strada difficilissima degli Zappei di Aprica che era praticamente impraticabile e di renderla invece un po' più agevole e un po' più facile da percorrersi quindi saputo che in Valtellina e anche a Bormio cominciavano a pensare di volersi aggregare alla Repubblica Cisalpina alla Lombardia e alla Repubblica Cisalpina Lecchi in tutta fretta decise di arrivare a Bormio per vedere veramente come fosse la situazione tre erano le possibilità in quel momento per la Valtellina e per il contadio di Bormio una unirsi alla Lombardia e alla Cisalpina due unirsi al popolo bresciano come Lecchi sosteneva e tre diventare Quarta Lega dei Grigioni Napoleone e l'osservatore francese a Coira sostenevano anche questa ipotesi che naturalmente a Lecchi non andava bene e non andava bene neanche alla maggior parte degli abitanti della Valtellina infatti oramai avevano praticamente deciso di unirsi alla alla Cisalpina senza peraltro ben sapere a che cosa sarebbero andati incontro però la scelta oramai era fatta abbastanza era quella Bormio nicchiava Bormio non si esponeva e Alberto De Simoni e Dea e un Dea che si chiamava Andrea mandarono un messaggio di cui vi leggo alcuni passaggi perché dopo aver parlato malissimo dei grigioni raccontato tutte le nefandezze che oramai già sappiamo i grigioni avevano compiuto sfruttando la valle aggiungono in questo messaggio qualora voi abitanti di Bormio sconsigliatamente non vorreste aderire a questo fratellevole invito sappiate che rimarreste isolati abbandonati a voi stessi privi di grano e gravati da dazzi per qualunque merce non vi gioveranno i vostri antichi privilegi che vi hanno sostenuto finora perché la Repubblica Cisalpina non si trova in dovere di mantenerli noi e quindi De Simoni e Dea siamo incombenzati di ammonirvi che se rifiutate ora l'unione spontanea e soddisfacente non mancherà alla Cisalpina la forza di obbligarvi a entrare in unione con essa e sappiate che in questo caso dovrete ricevere la legge del vincitore e subirla ora il tono veramente secco deciso avrebbe dovuto e infatti spaventò abbastanza i bormiesi più di un altro proclama che era stato fatto da Lechi e da Zuccola che invece sostenevano l'unione con la Repubblica Bresciana i toni erano più o meno gli stessi di minacce tutt'altro che velate non erano certo minacce velate morale il 29 questo messaggio giunse a Bormio il 22 giugno del 1797 il 29 giugno venne riunito nella chiesa di San Lorenzo a Bormio il consiglio plenario però non si decise di aderire Tukur alla Cisalpina ma si decise che doveva essere nominato un ulteriore consiglio di 33 persone alle quali sarebbe stato data carta bianca per decidere qualunque cosa avessero deciso loro dopo aver ben ponderato andava accettata dal popolo di Bormio il 9 luglio quindi praticamente dieci giorni dopo si ebbe una nuova riunione sempre nella chiesa di San Lorenzo e i 33 decisero che era necessario staccarsi totalmente dalle tre leghe e proclamarono il popolo di Bormio libero indipendente e sovrano quindi misero la bandiera anche sulla torre civica e a denti un po' stretti tanto è vero che abbiamo una lettera tra i documenti che appunto ha riportato il professor Massera che veramente va ringraziato per ogni documento che ci ha lasciato l'11 luglio quindi due giorni dopo Bormio mandò una lettera comunque conciliante alle tre leghe perché forse era meglio tenere i piedi non del tutto nelle scarpe della Cisalpina insomma dando la colpa non ai grigioni Tukur ma alla poco consigliata condotta degli aristocratici e degli oligarchi grigioni che erano oppressori quindi cercarono di tenere un po' i piedi in due scarpe Lecchi però stava tornando da Brescia e aveva saputo che in quel consiglio del 9 luglio si era anche deciso di inviare una delegazione di tre persone a Milano da Napoleone per far presente la peculiarità della situazione di Bormio la sua storia centenaria millenaria quasi e far presente quelle che erano le esigenze del popolo di Bormio i tre in questione si chiamavano Carlo Bruni l'arciprete che si chiamava Pierantonio Sertorio e un Casimiro Picchi ora quest'ultimo era abbastanza amico tra virgolette però insomma abbastanza amico del conte Lecchi gli altri due invece lo odiavano con tutto con tutta l'anima veramente non sopportavano la sua figura e creavano proprio non lo volevano assolutamente non volevano assolutamente che facesse parte dei maggiorenti di Bormio e questi tre suo delega del consiglio di Bormio vennero inviati e si incamminarono verso Milano arrivati a Bolladore incontrarono il Lecchi che invece saliva venendo da Brescia lì ci fu una litigata furiosa perché Lecchi voleva far parte di questa si riteneva in diritto avendo delle istanze da parte della rivoluzione bresciana si riteneva in diritto di prendere parte anche lui a questa delegazione non ci riuscì e i tre proseguirono però arrivati a Tirano Bruni venne arrestato ora Tirano era sempre stata nel suo terziere quella più vicina più favorevole più ribelle diciamo rispetto agli altri terzieri quindi su suggestione sicura del Lecchi l'avevano arrestato e tenuto in prigione per qualche giorno poi venne prontamente liberato perché si scatenarono tutti i suoi fautori e tutti i personaggi più importanti della valle e obtorto collo il Lecchi stesso dovete anche raccomandarne la liberazione di questo personaggio che anche Romegialli descrive come un personaggio veramente legatissimo alla tradizione descrive Romegialli nella sua storia descrive sia il Bruni che il Sertorio come due tra i più astuti di tutti gli astuti del contado quindi erano persone veramente molto capaci di organizzare di prevedere le cose Bruni salendo tornando verso casa fece degli interventi che sono stati definiti sotterranei andò di paese in paese sollecitando la gente e soprattutto i sacerdoti dicendo mostrando come il Conte Lecchi fosse una persona terribile una persona malvagia una persona da eliminare assolutamente e senza remore di nessun tipo quindi segretissimamente pare come racconta il Romegialli pare che questi avesse insinuato che era obbligatorio disfarsi di un uomo tanto violento e del suo partito quindi il rientro avvenne così ad agio ad agio sobillando tutta quanta la popolazione nel frattempo a Bormio il Lecchi furente come veramente furibondo ecco era una persona capace di grandi momenti di dolcezza di generosità eccetera e nello stesso tempo era capace di grandi ire furibonde e di gesti anche furibondi con il suo gruppo fece quello che però già avevano fatto a Brescia cioè distrusse tutti gli stemmi e abbiamo ancora adesso nella via dei Simoni che era la via maggiore poi se abbiamo tempo vi faccio vedere due foto gli stemmi sui portoni delle case nobiliari scalpellati via quindi quello poi ancora peggio fece togliere la berlina che era nella piazza vicino al querce fece scrivere sul pretorio libertà o morte fece eliminare tutti gli strumenti di tortura che a Bormio veniva ancora venivano ancora tranquillamente usati aggiungo che pochi anni prima di questa vicenda era stata condannata e bruciata l'ultima strega quindi non risaliamo al 600 per parlare delle streghe ma purtroppo per i Bormini anche per me erano state bruciate era stata bruciata una anche nel corso del 700 e poi fece e questo un atto che a noi potrebbe sembrare assolutamente sacrosanto e lodevole fece togliere dalla forca da cui pendevano due giovani impiccati che secondo gli statuti di Bormio dovevano restare lì fino alla completa decomposizione quindi questa veramente una crudeltà diciamo disumana lei che cosa ha fatto li ha fatti togliere da lì e ha obbligato i sacerdoti renitenti peraltro a seppellirli nella chiesa di San Francesco che è una chiesa un po' fuori Bormio allora si trovava nella via quella che oggi è la via Montebraulio ma la chiesa non c'è più ora questa distruzione della berlina degli strumenti della tortura e di questi poveri giovani tolti e fatti seppellire sembrò ai bormiesi e soprattutto ai più tradizionalisti un atto gravissimo che anticipava la fine dell'autonomia dell'esercizio che Bormio riteneva supremo che era quello di gestirsi e di far eseguire senza nessuna interferenza le sentenze capitali quindi era una sorta di sconfessione di quello che era sempre stato l'uso e l'abitudine di questi di Bormio dei Bormini nel frattempo inoltre era stato reso pubblico il progetto di governo provvisorio che era stato steso dallo Zuccola e dal e dal Lecchi stesso i toni iniziali erano un po' simili ma forse migliori di quanto non avevano scritto De Simoni e Dea dei quali ho parlato prima però era veramente feroce contro il il clero tant'è che nei punti in un proclama la nazione dice incasserà tutti i beni delle chiese nessuno escluso dei canonicati delle arci prebende eccetera i benefici ecclesiasti soggetti allo ius patronato saranno divisi per metà la nazione e per l'altra metà al possessore saranno estinguibili le decime ora le decime erano quelle che tartassavano il popolo perché tutti dovevano portare qualcosa a proprio scapito e invece per arricchire famiglie particolari poi nel progetto erano fatti i nomi erano divisi i comitati insomma era un'organizzazione molto simile a quella che era stata stesa in Brescia ed erano fatti i nomi di tutti coloro che dovevano prendere parte ai comitati e che dovevano appartenere ai cinque distretti del contado a questo punto Carlo Bruni era tornato a Bormio e dovevano tutti quanti ritornare a Milano perché dovevano parlare con Napoleone non essendoci riusciti prima e avevano organizzato il viaggio però questa volta non più passando da Cepina e scendendo per la Valtellina ma passando per l'Umbrail in modo da depistare il passaggio a depistare qualora Lecchi fosse venuto a saperlo la cosa era molto segreta tant'è vero che non se ne fece cenno e non arrivò notizia a Lecchi stesso che pure aveva uomini e lui stesso aveva le antenne ben dritte su quanto succedeva nel contado Lecchi quindi furente non sapendo che gli altri erano passati dall'Umbrail si precipitò con i suoi colleghi verso Cepina venne fermato arrestato perché tutta la popolazione sobillata precedentemente come ho detto e con richiamata dal suono di tutte le campane della zona si era radunata e Lecchi alcuni dei compagni avevano preso un'altra via i fratelli Dea per esempio un pedranzini erano riusciti a scamparla mentre lo Zuccola il Silvestri e Nesini erano rimasti con lui furono arrestati portati in una baita che ancora oggi si chiama la baita del conte a Cepina un po' in alto sotto il bosco e rinchiusi lì venne chiamato un prete per confessarli Lecchi naturalmente da ateo qual era dichiarò che assolutamente non si sarebbe confessato e diede al sacerdote un sacco pieno di zecchini d'oro nella speranza che venissero distribuiti ai poveri della zona gli altri tre si confessarono e però a lui che chiedeva un processo regolare perché dice vabbè ma perché mi ha arrestato il D era arrestati per diritto di lesa maestà che non si capiva bene cosa fosse lui stesso dice ma perché ci avete arrestato e perché ci volete uccidere a lui che chiedeva appunto un processo regolare fu risposto in malo modo che già si era processato da solo perché dichiarando con la sua motto o libertà o morte visto che la libertà non ce l'aveva più perché era stato fatto prigioniero l'alternativa che rimaneva era quella della morte e quindi quella di essere ucciso e così la folla inferocita guidata da due che erano un valzere un colturi di cepina che si erano autoproclamati i capi del governo dell'esercito cattolico lo fucilarono sconciandone tremendamente il corpo perché in modo molto crudele insomma cadde a terra ucciso anche gli altri due Silvestri e Zuccola subirono lo stesso trattamento in modo forse un po' meno feroce e Nesini invece venne salvato dal sacerdote il giovane sacerdote Raisoni il quale dichiarò che bastava così e che questa persona doveva essere perlomeno salvata e portata a Bormio per essere processata Nesini si salvò ma restò menomato dal trauma che aveva avuto tant'è che gli venne una sorta di malattia degli spasmi continui alla faccia soprattutto anche nelle parti in altre parti del corpo per cui continuava a contrarre proprio una malattia di tipo nervoso insomma conseguenza del trauma terribile Nesini poi diventerà cappellano alla terza cantoniera dello Stelvio e continuerà ad avere questo brutto ricordo di questa vicenda del corpo dell'Echi nessuno volle in un primo momento occuparsi poi furono obbligati due uomini di andare a seppellirlo e lo fecero talmente malamente sulle rive dell'Adda che il corpo venne poi trascinato via dalle acque qualcuno disse di averlo visto alle prese e di averlo ricacciato in acqua invece di tirarlo su e seppellirlo di averlo ributtato in acqua poi si racconta qui le leggende poi si moltiplicarono che fosse sparito nelle forre di Boffetto vicino a Boffetto o qualcun altro disse invece nelle peschiere nei pressi di Morbegno fatto sta che il corpo non si trovo più e che invece si racconta che fosse stato visto un orso che si aggirava nei pressi del luogo dove era stato buttato nell'acqua e questo si riallaccia alle leggende diffuse un po' in tutta la valle ma a Borme in modo particolare le leggende dei confinà che sono gli uomini che non avevano avuto degna sepoltura e che in vita si erano comportati malamente e per cui le cui anime poi erano costrette a girare nei luoghi a girarsi nei luoghi dove erano vissuti ora il suo arresto la fucilazione brutale eccetera furono raccontati più o meno allo stesso modo da tutti gli storici che ne hanno parlato sulla scorta delle testimonianze Massera Sandro Massera e Simonetti inseriscono nel loro testo dopo la descrizione fatta da Ignazio Bardea un testo che veramente è sconcertante a cui è stato dato il titolo di Factum Tale il tale fatto il tale evento firmato opera di uno dei tre che era Pier Antonio il parroco Pier Antonio Nicolini Sertorio e però firmato dal reggente di Turno che era uno Schena questo testo ha un tono veramente astioso e ostile è articolato in 15 punti e va a rivangare tutte le vicende passate del 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 Conte Lechi tra cui alcune di quelle che vi ho raccontato proprio come giustificazione dell'eccidio che è stato compiuto è chiaro che pensavano di aver fatto una grande azione ma per esempio Comeiras dichiarò che era un omicidio bello e buono che non si ammazzava la gente senza fare un processo Napoleone seppur è vero che disse il bien fusilé cioè è stato ben fucilato lo disse se è vero che l'avesse detto l'aveva detto probabilmente perché era infastidito dal fatto che le idee di Lechi sul contado di Bormio erano profondamente diverse dalle sue comunque in questo testo per esempio le ipotesi pretestuose erano l'incendio che si era verificato secondo le leggende come punizione per le feste licenziose che si tenevano in casa Lechi poi addirittura il fatto che la sua favorita che appunto era Mariana De Filippi girasse con un berretto con o ricamato o dipinto il ritratto di Robespierre oppure ancora perché aveva pubblicato le famose poesie licenziose di Giorgio Baffo oppure per presunti magari anche veri però soprattutto presunti sopprusi nei confronti del genere e nei confronti di altre persone e addirittura conclude questo factum tale con delle parole dicendo che se Lechi si fosse comportato meglio dopo l'arresto forse forse non sarebbe stato fucilato in quel modo ma sarebbe stato processato il che evidentemente non era assolutamente possibile dopodiché Bormio finita la vicenda del Conte Lechi con il decreto di Passariano del 10 ottobre anche la Contea di Bormio venne comunicato che erano padroni di unirsi alla Repubblica Cisalpina ora questo siete padroni di unirvi presupponeva lasciava presupporre una certa possibile facoltà di non volere unirsi poi invece dieci giorni dopo uscì il decreto del direttorio esecutivo dove invece visto il desiderio dei Valtellinesi di unirsi alla Repubblica Cisalpina si dichiara che dal giorno d'oggi anche il contado di Bormio è unito alla Repubblica Cisalpina dopodiché vennero mandati gli inviati al contado perché venissero scelte o 4 o 6 persone che facessero parte dei comitati che dovevano andare a Milano a far parte dei comitati come consulenti il 4 novembre abbiamo una lettera sempre fatta resa nota dai documenti del professor Massera dove il deputato Bruni a parte oltre agli iscritti degli altri degli appartenenti agli altri terzieri scrive che dopo aver presentato tutta la storia di Bormio ricorda che la cosa migliore per Bormio sarebbe stata lasciargli il suo regolamento democratico non potendo aver luogo immediatamente la nuova organizzazione perché il popolo non è ancora del tutto rigenerato e non è cosa facile adattarlo a una totale mutazione di sistema così improvvisa e a una così improvvisa novità delle cose quindi veramente o erano terribilmente ingenui o di una speranza speravano in qualcosa che assolutamente non si sarebbe mai realizzato cioè in sostanza volevano mantenere i propri diritti i propri privilegi i propri statuti che per secoli li avevano mantenuti liberi e indipendenti andando a far parte di una repubblica per di più con Cisalpina che poi passerà a Repubblica Italiana poi a Regno d'Italia e entererà nell'impero con una persona come Napoleone che sicuramente non la mandava a dire a nessuno e aveva le idee molto ben chiare su come si sarebbe poi dovuti procedere e quindi tutte le azioni fatte da Lecchi e che erano state così condannate vennero dovettero il popolo di Bormio dovette approvarle velocemente vi dico due cose velocissime se ho tempo ancora un momentino su perché beh beh questa tragica vicenda al di là del modo di essere del Conte Lecchi e dei suoi comportamenti in questa tragica vicenda si può leggere lo scontro tra due mentalità veramente opposte quelle di un assertore di un mutamento necessario sulla base di idee del tutto nuove quali quelle portate avanti dalla rivoluzione francese e quella invece di chi come Bruni e i suoi sodali era profondamente radicato nelle tradizioni del passato e non voleva accettare di perdere i propri antichi ordinamenti d'altro canto molto contraddittoria era anche la figura di Lecchi perché da un lato era segnata da comportamenti tipici della società ancora della società feudale di cui godeva i frutti perché il denaro che gli veniva tutto quello che lui aveva potuto fare gratis diciamo tra virgolette l'aveva fatto ma l'aveva pagato di tasca sua con soldi che provenivano dai tempi antichi e dall'altro invece si manifestava come portatore e paladino di idee avanzate del tutto nuove quindi una sorta e rientra in questo c'è un libro scritto adesso mi sfugge il nome sui libertini rientra nella tipologia del libertino come proprio come figura tipica del settecento che vive ancora dei proventi feudali e si riconosce in questo in molte azioni e però nello stesso tempo erano portatori di idee nuove e dirompenti come quelle della rivoluzione francese ora aggiungo velocemente divenne conte diavolo grazie soprattutto a delle opere letterarie intanto come figura il primo autore che ne ha scritto senza nominare il conte galeano lecchi ma descrivendo alcune delle vicende che gli erano state raccontate dai nipoti perché era amico di questi nipoti è lo scrittore Stendhal che in un libro che è intitolato Roma Napoli Firenze Viaggio in Italia da Milano fino a Reggio Calabria descrive le vicende di tale conte Vitelleschi non nomina mai lecchi naturalmente però delle vicende anche divertenti anche ridicole che questa figura avrebbe fatto e tutte vicende raccontate che gli erano state raccontate dai parenti di Galeano Lecchi come da lui compiute realmente poi l'altro romanzo che è un po' la base tant'è vero che è intitolato il conte diavolo è il romanzo di Giovanni Robustelli di Grosotto che uscì pubblicato a puntate sulla perseveranza e poi uscì invece nel 1885 in un libro che adesso non è portato comunque un romanzo che è piacevole da leggere anche se c'è una prefazione di Romualdo Bonfadini che è veramente terribile si scaglia ma in modo a parole veramente forte contro quella che lui definiva la putredine giacobina proprio veramente in odio a quelli che erano stati i circoli giacobini dell'epoca del settecento forse un po' dimentico del suo passato iniziale che era stato anche lui un rivoluzionario tant'è che aveva partecipato non a queste giornate di Milano ma alle cinque giornate di Milano anche Robustelli che pure è capace di grandi descrizioni molto piacevoli una capacità icastica di descrivere i personaggi davvero straordinari per esempio la figlia dell'Echi che aveva sposato anche lei questo Nicolina molto più anziano dice ispida contro il marito come un logaritmo quando parlava quindi veramente e poi invece del marito che aveva questi panciotti di cui si faceva girava tutto tronfio tra l'altro Giovanni Robustelli aveva sicuramente in mente due piccoli dipinti che poi se avete un attimo di pazienza vi faccio vedere che fanno parte di una collezione privata dove appunto era la tipologia sia di Francesca Lecchi che del marito era proprio quella dopodiché il romanzo ripeto è bello l'unica così insomma la figura di Lecchi viene sempre condannata sempre vista come negativa come portatore di idee che non collimavano evidentemente con quelle di Giovanni Robustelli che era un moderato mentre qui si trovava costretto a raccontare delle vicende che moderate in nessun campo nemmeno in quello della moralità comune casalinga erano venivano fatte insomma e quindi Lecchi non emerge bene viene un po' bersagliato come l'emblema anche lui di qualcuno che si era sempre comportato male e che non era una persona di valore davvero per fortuna che verso la fine riconosce che anche i componenti bormini il riferimento è a Bruni all'arciprete Sertorio non non si erano non erano poi così limpidi e così puliti come avrebbero potuto essere descritti un'altra opera in cui si parla del Conte Diavolo intitolata il Conte Diavolo è un dramma storico di Gianfrancesco Mazzucchelli che è stato scritto e rappresentato a Bormio tra l'altro con degli attori locali che aveva avuto un discreto successo nel 1947 e un dramma diviso in quadri e in uno di questi quadri si vede Lechi che viene in un incontro con un suo servitore il servitore gli dice guarda che tutti quanti ti chiamano diavolo e sei considerato un diavolo e allora lui dice benissimo allora è andato a prendere in una cassa panca il vestito da maschera che aveva usato durante la famosa festa licenziosa nella quale alla quale era poi seguito un incendio che aveva distrutto tra l'altro più case a Bormio se l'è messo nonostante puzzasse ancora di bruciaticcio e poi ha dichiarato a tutti che se ne andava e che volava via verso la Val Zebrou che era il luogo tipico dove erano solite trovarsi le streghe e quindi si è dato la patente lui stesso di diavolo e ha detto dicono che io sono un diavolo d'ora in avanti sarò davvero un diavolo poi c'è un altro romanzo che è intitolato Cromantica di un autore che si chiama Gianfranco Manfredi uscito nel 1985 e anche qui lei che c'entra un po' di non è il personaggio principale è tutta una storia legata dai quadri che erano tutti dipinti di nero una specie di spy story abbastanza vincente ambientata vabbè a Milano poi ambientata a Chiavenna ambientata a Teglio nel Palazzo Besta e a Bormeo nella casa del Lechi e anche qui Lechi come poi ebbe a dire il Sertoli Salis il compianto Renzo Sertoli Salis troppo odore di zolfo intorno al conte diavolo quindi un odore di zolfo da diavolo che è stato appiccicato diciamo dopo cito ancora per concludere la rappresentazione teatrale che è stata fatta dagli studenti del liceo scientifico diretti Donnegani diretti dal professor Moiser che è stata rappresentata qualche anno fa alla Torelli e che era stata proprio curata tutta sui documenti sui documenti originali che vi ho citato ancora recentissima una poesia di un poeta bormino che si chiama Reinholtter che recentemente sta recuperando le vicende storiche di Bormio in dialetto bormino e tra queste appunto anche la storia di Vincenzo di Galeano Lecchi se mi consentite e se avete voglia vi faccio vedere alcune immagini beh questa è Bormio ai primi anni del novecento però era la stessa all'epoca del conte Lecchi non era cambiato molto e le costruzioni sono poi tutte venute in seguito questa è una foto del conte Lecchi che è stata pubblicata un po' dovunque e che appartiene agli eredi di Calvisano della famiglia Lecchi i quali ebbero a dire che sulla base dei documenti che loro hanno in famiglia fu molto migliore di come non è stato dipinto in Valtellina questo era sempre il conte Lecchi e questo mi pare che sia di proprietà il professor Massera da giovane questo è il palazzo di Montirone dove visse insieme ai suoi buli per tanto tempo che è rimasto ancora che è ancora di proprietà della famiglia Lecchi questo è ancora Bormio quando poi è tornato Bormio era un nucleo davvero piccolino tutta la zona questa zona era erano le case degli Alberti quindi la famiglia più importante del paese e poi finiva praticamente dove c'è il semaforo oggi era già fuori Bormio questa era la casa del conte Lecchi che comprendeva tutto fino in fondo alla via la casa del conte Lecchi che quando fu ammazzato venne invasa distrutta fu asportato tutto e aveva delle ricchezze degli oggetti molto molto preziosi tanto è vero che poi si scatenò una insomma venne fatto un processo addirittura venne chiamato Tommaso Nani che era un signe giurista per dirimere perché era stato accusato di lesa maestà non si capiva bene poi perché fosse stato ucciso per questo motivo comunque dalla casa fu asportato praticamente tutto e la casa fu poi acquistata dal Pietro Botterlini che era mio quadrisnonno e poi questa parte di casa è rimasta ai nipoti ai cugini della mia bisnonna che erano la famiglia Caimi Aristide Caimi Aristofane Caimi i quali la vendettero agli attuali proprietari che l'hanno distrutta e hanno costruito la casa di oggi mentre la parte più a ovest è rimasta alla mia famiglia che era quella della servitù erano le stalle erano i magazzini poi la casa qui è come oggi la via dei Simoni che allora si chiamava via Maggiore questa è la casa poi ricostruita e la parte finale che è quella dove abitiamo noi sotto c'erano poi sono è stato abbastanza riempito però c'erano tutti i broli e i giardini descritti anche nel romanzo di Giovanni Robustelli ed erano molto vasti per la verità arrivavano quasi fino alla via Roma questa era la chiesina di Santa Barbara dove oggi dove c'è questo arco c'è il semaforo e dove probabilmente sia nella chiesina che in una specie di fienile un po' prima si recitavano le opere si faceva teatro secondo i modi del conte Lecchi e questa era la Francesca Lecchi la figlia che era ilare come una gazza definita così dal Robustelli e l'altro era il marito col suo panciotto e con molto più anziano di lei questa invece era una delle sorelle era Fanny Lecchi che era una delle sorelle dei Lecchi che avevano organizzato la rivolta a Brescia contro Venezia e che era quella che aveva cucito per prima il vessillo con i colori della bandiera italiana issato sopra il broletto tra l'altro Fanny Lecchi è stata amante di Gioachino Murat per un bel po' e abbiamo tutti dei testi che raccontano di questo amore e delle sue vicende l'aveva seguito a Ratzad l'aveva seguito anche a Parigi quindi c'è tutta una storia nella storia per poi finalmente tornare a casa e questa era sempre lei perché il ritratto di prima era fatto da Piani che era un pittore veramente importantissimo dell'epoca che aveva immortalato le figure più importanti tra la nobiltà dell'epoca questa non so chi l'avesse dipinta così un po' di scinta questo era Teodoro Lecchi uno dei generali dei nipoti che aveva preso parte alla conquista di Brescia e che poi diventerà un fiero generale napoleonico e sempre resterà contro l'Austria sempre sarà anti-austriaco e il motto anche allora era vivere libero o morire che è il motto che si è perpetuato e che il conte Galeano Lecchi aveva scritto sul palazzo del pretorio di Bormio questo è uno dei palazzi la casa Fogliani in via l'attuale via dei Simoni non so se si vede bene comunque lo stemma era stato scalpellato via con violenza e questo è un altro no scusate un altro palazzo da cui lo stemma era stato tolto con la violenza poi abbiamo questo è il bastone che usava il conte Lecchi un bastone di ferro con un serpente con una simbologia abbastanza precisa un serpente che si avvoltava su questo bastone di ferro questo era il proclama che gli era stato dato da Brescia da portare in Valtellina per far vedere quanto i Bresciani fossero benevoli e fossero pronti ad accogliere la Repubblica di Bormio di farsela consociata insomma poi e questo è purtroppo l'ultimo documento con la firma dei defunti e quindi libertà virtù ecco una cosa anche abbastanza interessante era capire come mai da libertà egalità fraternità si sia poi passati a libertà virtù e uguaglianza e Bormio aveva aggiunto anche religione quindi con quattro nomi per indicare che per loro la religione era qualcosa il preservare la religione era qualcosa di veramente importante comunque questo datato 23 luglio che è stato proprio il giorno in cui sono stati tutti ammazzati e era stata indetta una una riunione per cui avevano firmato Filippo Nesini per primo Vincenzo Zuccali per secondo Giacomo Dea che era un altro che però si era salvato Galeano Lecchi e Gian Battista Silvestri a fianco Pietro Nicolina che era uno dei maggiorenti dichiara non so se riuscite a leggere che i tre deputati e quindi Bruni Sertorio e Casimiro Picchi se ne erano andati senza lasciar detto niente e in silenzio in segreto questo perché si poteva supporre che lui invece lo sapesse e sapesse di che cosa era stato organizzato a Cepina perché il lecidio di Cepina è chiaro che era stato organizzato direi quasi nei minimi particolari e questo è un ritratto rotto perché il dipinto è dipinto su vetro e quindi non è che è il vetro che è rotto e sotto c'è il dipinto era proprio dipinto su vetro e rappresenta il conte diavolo con questo vestito così veramente un po' da questo mantello nero vestito rosso e che probabilmente è quello che ha suggestionato sia Giovanni Robustelli nel fare la sua descrizione sia il Mazzucchelli nella sua opera teatrale basta qui si conclude beh questo è il palazzo di Montirone dei Lecchi oggi e questi sono discendenti del conte Lecchi quello in mezzo piccolino è il mio bisnonno perché appunto abitava la casa che era stata dei Lecchi quello più giovane era un figlio Antonio e l'altro era Teodoro Lecchi non il Teodoro Lecchi di cui ho parlato prima ovviamente che era morto che si erano recati a Bormio proprio per vedere per rendersi conto deviso di come dove era vissuto il loro antenato e di come era stata la sua vicenda il sacerdote era un Don Santelli basta qui mi fermo concludo grazie grazie allora grazie per questa ricostruzione così dettagliata e fondata su base documentaria credo ci sia qualche minuto per una domanda se qualcuno desidera intervenire tutti terminati spero di non avervi annoiato troppo con queste storie prego sì Franco semplicemente innanzitutto complimenti alla Cristina Pedrana per per la chiarezza la nitidezza l'equilibrio di giudizio storico e così via veramente complimenti grazie ecco prima questa cosa poi tu giustamente alla fine hai ricordato appunto il libertinismo penso che il libro che volessi citare era quello di Schneider il libertinismo no è di una del mulino che diciamo l'operazione questa signora ha scritto sui libertini francesi ah sui libertini francesi la Craveri Benedetta Craveri ecco bravo che ha pubblicato per l'Adefi che è il nipote di Benedetto Croce ecco e quindi lei si riferiva a tutti i libertini francesi però leggendo il ritratto di questi libertini veramente ci si ritrova perfettamente sì sì perfettamente io se posso aggiungere un'indicazione bibliografia che è il libro di Schneider pubblicato dal mulino il libertinismo che le ripercorre la storia di questa corrente dal Cinquecento appunto al Settecento giustamente ripeto però non è questo tu hai richiamato questa questa corrente culturale di cui lei perché il lecchi non è un personaggio singolare unico è in persona appunto questa corrente culturale che è consustanziale anche alla rivoluzione francese e al giacobinismo e di cui Casanova De Sade e così via sono il conte di Cagliosto insomma erano tutte le personalità più è una corrente culturale vera e propria e così via ed è la cui componente essenziale è la licenziosità appunto quindi anche le poesie del baffo e così via ora io intendevo porre l'accento su questo ciò che aggiunge il lecchi al circolo giacobino di Bormio che era sorto per e appunto questa componente libertina di licenziosità e ciò che Bormio rigetta e diciamo la ferocia con cui dell'esecuzione del lecchi è appunto il rigetto di questa componente di licenziosità e che diciamo simbolicamente anche simboleggiata nell'esecuzione nella fucilazione del lecchi con le pallozze dal fatto non solo dal fatto che dopo le prime fucilate che lo abbattono il Romegialli dice che poi la maggior parte delle fucilate furono dirette alle parti intime del conte questo racconta anche Romegialli e anche alle parti intime del conte quindi nell'esecuzione c'è la simbologia stessa di questo rigetto della componente licenziosa in questo particolare dell'esecuzione ecco quindi che ha cancellato ha messo in ombra quello che potevano essere delle istanze cioè il fatto di unirsi a Brescia non era poi un'idea del tutto fuori dal seminato sì sì ma però era la persona di lecchi come hai detto tu poi dava fastidio l'ostentazione della ricchezza dava fastidio il fatto che avendo moglie e ha sempre dichiarato di averla e di volerle bene e questa moglie aveva allevato finché erano piccole le figlie di altre donne quindi cosa che non so quante moglie farebbero ecco e però viveva in concubinato diciamo così con la Mariana De Filippi che però da quello che risulta dai documenti si era sempre comportata molto correttamente sì e io diciamo nelle leggende della fine del conte lecchi anche quelle cose che tu hai giustamente riferito cioè che poi il corpo viene trovato prima alle prese poi alle rapide di boffetto alle rapide di boffetto secondo queste queste voci e così via lui viene trovato addirittura addirittura senza braccia e senza testa senza testa a cefalo quindi l'aveva persa significa che via via che discendeva questo corpo si spargeva la voce e ogni comunità locale diciamo amputava una parte del corpo di lecchi cioè una ferocia quindi che sarebbe non soltanto Bormina ma un pochettino generale di tutte le comunità questo diciamo questa componente libertina rigetta Bormio ecco dopo di che non so veramente quale fosse la verità ecco perché ripeto noi abbiamo tutte queste vicende questi racconti quello che le racconta con più malignità e con più anche facendo ridere a dire la verità in certi punti è Vincenzo Giuseppe Besta perché perché il suo amico e parente Fabio Besta che non penso fosse quello a cui è dedicata questa sala comunque era colui che voleva fare da cavalier servente alla bella Elisa ecco per cui Vincenzo Giuseppe Besta e le sue memorie sono state in parte pubblicate da Bice Besta che tra l'altro io avevo avuto dei contatti perché abitavano vicino a Milano Bice Besta e la sorella abitavano a Milano vicino a me e raccontava questi fatti e aveva pubblicato queste che anche lei stessa le chiamava malignità e lei stessa in quello che lui che ha scritto su Adua negli scritti in onore di Sertoli Salis scrive che bisognava forse stare attenti a quello che si diceva del Conte Lecchi dipingendolo così così malvagio e così così diabolico insomma ecco quindi non so bene realmente mi sarebbe piaciuto il fratello Faustino padre dei famosi generali e della Fannilechi che ebbe 19 figli tutti dalla stessa moglie e che era una persona correttissima molto brava sempre con le sue idee di libertà repubblicane eccetera eccetera però di grandissima correttezza tanto è vero che quando Stendhal raccontando mescola fa confusione tra i due fratelli è prontamente ripreso da chi leggeva perché dice no tu stai parlando di Galeano Lecchi e non di Faustino Lecchi ecco quindi da un lato è figlio del suo tempo per tanti aspetti dal libertinismo dal cicisbeo cavalier servente questo sfruttare pagare di tasca propria come ho detto prima tutti gli spostamenti i movimenti i soldi che affluivano al circolo Giacobino di Bormio provenivano da lui sostanzialmente perché era lui che pagava tutto quello che c'era da pagare i viaggi eccetera mentre gli altri per esempio nei documenti dell'archivio di Bormio è ben specificato che sia il Sertorio che Carlo Bruni hanno presentato una lista molto precisa con tutte le spese compreso un ombrello che si era rotto compreso che si era dovuto fermare a mangiare non so dove compreso il cavallo che non so cos'era successo al cavallo insomma una lista dettagliatissima per farsi rimborsare le spese dal comune di Bormio ecco Lecchi non ha mai presentato non che io lo voglia sostenere perché in effetti è stato un personaggio verosimilmente davvero pesante da sopportare sia per le donne che gli sono state vicine che per i compagni e per tutti insomma e purtroppo anche se Bormio fosse andata a Brescia otto mesi dopo otto mesi dopo confluiva nella Repubblica Cisalpina certamente però lui sarebbe stato contento la realtà che i vantelesi quando pensavano quando si dice la libertà pensavano alla propria libertà e alla libertà degli antichi cioè degli antichi secondo me con una grande ingenuità veramente Silvestri lo dice bene chiaramente in una lettera che è molto importante che va riportata come documento questo Silvestri scrive che è andato a fare un giro nella Valtellina e si è reso conto di come la rivoluzione fosse stata fatta così tanto per imitare gli altri senza pensare a nessun piano economico senza pensare ai dazzi che erano ancora in capo ai grigioni senza pensare a nessun tipo di organizzazione mentre loro per Bormio già da tempo come avevano fatto a Brescia il piano del governo provvisorio lo avevano steso e steso molto bene ecco beh grazie io credo che l'ora sia tarda quindi vi do appuntamento al prossimo mercoledì e ringrazio ovviamente la Banca Polare per la sede sì ecco veramente grazie grazie Mina anche